È stato un impegno importante che ho preso con la mia città ma con l'intera provincia e l'anticipazione da parte dell'assessore Saltabartini la settimana scorsa era stata sicuramente molto importante, ma aspettavamo una certificazione del Consiglio regionale e questa è venuta ieri con l'interrogazione proposta insieme anche a quella della minoranza e l'assessore ha confermato fine settembre e inizio d'ottobre che il tempo necessario per eseguire dei lavori al reparto materno infantile è un risultato molto importante perché la vecchia amministrazione per esigenze di riorganizzazione aveva deciso di chiudere questo reparto, un reparto importantissimo fatto di eccellenze, di medici, estetriche, di tutto ciò che ruota intorno a questo mondo e quindi noi eravamo molto contenti di cercare di rieprirlo prima possibile, ci sono delle esigenze tecniche che devono essere sicuramente rispettate per i lavori ma siamo assolutamente contenti e fiduciosi che tutto ciò possa avvenire nei tempi prestabiliti. Hai citato la minoranza che ha rilanciato anche sul pronto soccorso pediatrico magari poter anticipare qualcosa su questo fronte, un percorso attuabile? È un percorso che sicuramente è da verificare, noi chiaramente non possiamo che sostenere questa richiesta, mi dispiace che si cerchi ogni volta di trovare sempre una situazione per non essere contenti, ogni tanto bisogna anche essere contenti delle cose che si ottengono anche da parte di altri consiglieri perché sono fatte solo in esclusivo interesse della città. Purtroppo la vecchia amministrazione aveva chiuso questo reparto in un'interrogazione, anche questo mi pare molto opportuno specificarlo perché quello che è stato espresso dalla consigliera Vitri anche ieri e anche oggi su alcuni quotidiani è assolutamente falso perché la precedente amministrazione proprio a seguito di un'interrogazione proposta dal consigliere Biancani l'assessore allora Loretta Bravi disse in maniera molto chiara che non c'era nessuna certezza di repertura del reparto materno-infantile quindi smettiamo di fare polemica su ogni cosa, apprezziamo quello che questa amministrazione ha fatto e che l'assessore Salta Martini e l'Aggiunta Quaroli ha fatto anche con il piccolo impegno del sottoscritto quindi andiamo avanti su cose molto importanti all'interesse della città e meno polemiche.